La meta di Tuima è un ottimo esempio di come lavora bene una cellula, di cercare la continuità e leggere lo scenario davanti ai propri occhi. In questo caso la difesa di Northampton si stringe tantissimo sul fulcro di questo blocco a tre, che è formato proprio da Tuima, Fisilau, segnato con il numero due, e il numero quattro in questo caso, Ethan Roots, all'esterno. Si cerca di mantenere viva la palla e il possesso, il KBA, e in questo caso è proprio Tuima che ha dato il la a questa azione, dando il primo passaggio all'interno per generare il line break, poi a concludere l'azione. Si stringe troppo quindi questa difesa, manca la connessione tra la guardia e il primo giocatore in piedi della difesa di Saints, ma sono bravissimi i giocatori di Exeter, a trovare lo spazio. Guardate qua, primo passaggio all'interno, offload all'esterno, si rigioca all'interno con il nuovo sostegno e lo conclude Tuima arrivando proprio in asse, andando a cercare il secondo tocco, quindi essere attivo più di una volta e quindi diventare addirittura vincente con la meta. Quindi Tuima, passaggio all'interno, arriva molto bene il sostegno interno Fisilau all'altezza, un piccolo fending, quindi utilizza un po' il braccio sinistro per allontanare il giocatore, e tocca il pallone il terzo giocatore del pod, arriva bene anche Ross Vincent in questo caso, che cerca sempre di essere l'opzione sul lato sinistro, meta.